Scambio di informazioni obbligatorio sugli accordi fiscali anticipati, i cosiddetti tax ruling, eliminando la discrezionalità sulla scelta dei dati che possono essere tenuti segreti. Come promesso dopo lo scoppio dello scandalo LuxLeaks, la Commissione europea presenta la nuova strategia anti-evasione che mira ad aumentare la trasparenza fiscale. Il pacchetto vuole smascherare quelle multinazionali che spostano i profitti nelle filiali nazionali in cui sono meno tassati, pratica oggi piuttosto diffusa grazie anche alla complicità di alcuni stati, intenzionati ad attirare investimenti sul proprio territorio. La direttiva, come spiegato dal commissario agli affari economici per Moscovici, sarà retroattiva di 10 anni in modo da scoprire chi in passato ha approfittato delle maglie troppo larghe della legislazione attuale. Allora, insisto sul fatto che la retroattività è una questione molto importante secondo noi. Ad alcuni forse piace dire che siccome c'è un nuovo regime di scambio automatico di informazione deve riguardare i futuri interpelli. No, non è il nostro punto di partenza. La trasparenza deve esistere anche sugli interpelli già in vigore. Ci deve essere quindi la retroattività per garantire totale trasparenza. Perché questo tipo di regime non li creiamo tutti i giorni. E' un punto quindi di sostanza, un punto decisivo per la commissione. La direttiva non prevede sanzioni dirette per gli stati, ma la commissione, una volta scoperto un eventuale caso di violazione delle regole, potrà aprire una procedura di infrazione. Il pacchetto ora sarà posto all'attenzione di Parlamento e Consiglio con gli stati membri chiamati a trovare un accordo entro la fine dell'anno, così da permetterne l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2016.